Fiume Sele come il Sarno è la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e della senatrice Felicia Gaudiano, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo a Ponte Barizzo nel comune di Capaccio Pestum nei pressi del tratto del fiume Sele. Da tempo, spiegano Cammarano e Gaudiano, facciamo i conti con una bomba ecologica che scorre nel letto del fiume Sele. Gli ultimi monitoraggi sui discarichi di acqua e reflu nei comuni interessati hanno fatto emergere la totale inadeguatezza dei depuratori preposti allo smaltimento degli scarichi urbani e industriali. E' sempre più elevato, continuano, il rischio di contaminazione per lo scarico di fanghi e acque non trattate. La richiesta è di avviare al più presto verifiche sul funzionamento dei depuratori e controlli tesi a reprimere possibili attività di scarichi abusivi nelle acque del fiume.